Noi abbiamo visto come si determina dal punto di riposo i valori dei parametri di piccolo segnale, non abbiamo visto come si determinano le capacità. E il modo in cui si determinano le capacità tipicamente è facendo ricorso a un parametro del transistore che di solito viene dato nel data sheet, cioè nella scheda tecnica del transistore, che è la frequenza di taglio. La frequenza di taglio è direttamente legata al valore delle capacità. Allora, vediamo un attimo in che cosa consiste e come si usa. Questo è un discorso che vale sia per il bipolare sia per i fet, definita essenzialmente nello stesso modo. Dico prima la definizione nel caso del bipolare. La frequenza di taglio è la frequenza alla quale il guadagno di corrente di cortocircuito a emettitore comune se siamo con un bipolare oppure a source comune se siamo con un fet è uguale a 1. Quindi è la frequenza alla quale il guadagno di corrente di cortocircuito a emettitore comune è uguale a 1. Questa è una cosa abbastanza facile da misurare, del motivo per cui si misura ed è il motivo anche per cui si fornisce. Che cosa vuol dire? Vuol dire, nel caso di un transistore, vuol dire fare una cosa del genere. mettere il transistore in configurazione a emettitore comune, mettere l'uscita in corto questo può essere in corto per il piccolo segnale o per, tipicamente per il piccolo segnale perché il transistore lo mette in zona attiva diretta. Quindi questo è in corto, corto per il piccolo segnale e poi andare a vedere l'amplificazione di corrente, il guadagno di corrente mettendo quindi una corrente sulla base e andando a vedere la corrente in uscita, quindi la corrente emettitore. Il rapporto di C sui B alla frequenza Ft per definizione di Ft è uguale a 1. Quindi i C sui B in queste condizioni con l'uscita in cortocircuito è il guadagno di corrente di cortocircuito che tipicamente dipende dalla frequenza, per il fatto che in transistore ci sono queste capacità interne e per definizione la frequenza di taglio che si indica con Ft è quella alla quale questo guadagno di corrente vale 1. Per il FET vale esattamente lo stesso discorso, io metto un generatore di corrente su gate è un generatore di piccolo segnale, io disegno il transistore completo ma il cortocircuito e l'ingresso in corrente vale per il piccolo segnale. E poi cortocircuito, il drain call source e misuro la corrente di drain. E quindi nel caso del FET abbiamo il D sui G che è funzione della frequenza, alla frequenza Ft in modulo il D sui G vale 1. Allora, come vi potete immaginare se guardate il circuito, in un circuito così semplice c'è soltanto il transistore, no? Quindi l'unica dipendenza dalla frequenza di questo guadagno di corrente è determinato dalle uniche capacità che ci sono, che sono quelle interne del transistore. Quindi Ft mi dà un'informazione su quali sono le capacità interne del transistore e sapendo qual è la relazione tipicamente noi usiamo Ft per determinare le capacità interne. Questo vale sia per i bipolari sia per Ft. Quindi il motivo per cui si usa per quello è proprio perché è un tipo di misura particolarmente semplice in cui di fatto gli effetti della rete polarizzazione vengono completamente bypassati perché entro in corrente e cortocircuito è uscita, quindi la rete polarizzazione non la vedo proprio. e quindi però riesco ad ottenere informazioni abbastanza precise sulle capacità interne. Allora, è utile se calcoliamo questa relazione, vediamo a che cosa è uguale. Per comodità la calcoliamo sul bipolare, il traccio su Ft il ragionamento è esattamente uguale perché Ft e il bipolare di fatto hanno un circuito equivalente identico, no? L'unica cosa che cambia è la resistenza sulla base che c'è nel bipolare invece sul collettore, su gate non c'è resistenza, ma insomma diciamo che il caso del Ft è un caso particolare rispetto a quello di bipolare quando metto a zero l'Rb è infinito e l'Rb è infinito per togliere quelle due resistenze. Allora, vediamo il caso di bipolare. Vediamo il circuito di piccolo segnale e calcoliamo C sub i B, questa è la frequenza e vediamo quando è che C sub i B è uguale a 1, il circuito di piccolo segnale. Quindi, questo ve lo faccio vedere, vedete che io avrei Rb, un Rb qui non corta veramente niente perché qui c'è Rb più 1, e qui c'è Cb più 1, qui c'è Cb più 1, qui c'è Cb più 1, qui c'è Cm più 1, qui c'è Rb e qui c'è il cortocircuito. Quindi il circuito è questo, devo calcolare adesso il rapporto tra C e B, quindi questa condizione semplifica molto il circuito perché, se fate caso, chiaramente l'Rb non conta niente perché è in parallelo a un cortocircuito, quindi non è attraversata da corrente, posso toglierla in modo da pulire un po' il disegno, e lo stesso anche l'Rb non conta niente perché io devo fare rapporti C sui B, la caduta sui Rb in serie Rb, non fa proprio nessun effetto, anche perché l'attenzione sul genere di corrente è quella che serve a garantire l'Rb, una volta, diciamo, sia che non ci sia l'Rb, veramente questa cosa conta poco, quindi posso levarla, ok? Se tolgo l'Rb, è incompensata un po' la diversa tensione qui, e basta, però l'effetto non c'è. E quindi cosa posso fare? Ecco, qui devo stare attento che c'è Gm e Vb che mi danno la corrente, e Vb'e è questa qua. Però mi conviene notare questa cosa, vedete, l'Ib passa attraverso il parallelo dei tre componenti, Rb'e, Cb'e, e Cb'c, che poiché ho messo l'uscita in cortocircuito, è andato in parallelo a, è andato in parallelo a Cb'e, vedete, Cb'c e Cb'e sono in parallelo. Allora, quindi io cosa posso fare? Posso scrivere la seguente cosa, Ib'e è uguale a Vb'e per l'ammettenza di questi tre componenti in parallelo. Ib è uguale a tensione per un'ammettenza. L'ammettenza di questi tre componenti in parallelo sono due capacità e una resistenza. L'ammettenza di tre componenti in parallelo è uguale alla somma dell'ammettenza. Quindi sommo, devo mettere, Rb'e più l'ammettenza della capacità Cb'e, che è Cb'e per s, più l'ammettenza della capacità Cb'c, che è Cb'c per s. Quindi, vedete, dai B io trovo quant'è Vb'e. Quando ho trovato quant'è Vb'e, so quant'è Gm'e, quindi di fatto so quant'è C. Perché in questo punto Ic è uguale a questa corrente, la Gm'vb'e, meno quella che viene da questa parte. Quindi Ic è uguale a Gm'vb'e, meno la corrente che passa attraverso Cb'c, che è la tensione capi di Cb'c, che è Vb'e, perché C è l'essere in corto, per l'ammettenza di Cb'c, che è Cb'c per s. Quindi sono a posto. Di fatto che cosa ho? Ho ricavato il C in funzione di Vb'e, i B in funzione di Vb'e, e quindi posso ricavare il C su i B in quelle condizioni. e viene una cosa che dipende dalla frequenza. Ok? Che c'è S e quindi posso fare uno studio di funzione e vedere quando è che quella roba lì è uguale a 1. Quale valore di S in modo da trovare la frequenza. Allora, facciamo il conto, il C su i B, giro pagine, il C su i B, lo scrivo mettendo in evidenza Vb'e e semplificando, quindi già la faccio sparire, quindi mi viene. il C su i B uguale a che cosa? A numeratore mi viene soltanto Gm, ho detto Vb'e e lo tolgo, quindi meno Cb'c per S quindi mi viene uno zero e a denominatore andiamo lì, può creare l'espressione, a denominatore ho questo termine qui, 1 su Rb'e più Cb'e più Cb'c per S quindi mi viene 1 su Rb'e che moltiplica Cb'c più Cb'e per S allora qua ci sono forse mi conviene moltiplicare per vedere bene dove sono poi le zeri tutto per Rb'e così trovo la forma di scrivo nella forma di Bode con termini noti uguali a 1 guardate se moltiplico per Rb'e mi viene il prodotto Gm per Rb'e ma se vi ricordate Gm per Rb'e è Hfe ok? quindi moltiplichiamo tutto e allora denominatore viene 1 più Rb'e che moltiplica Cb'c più Cb'e per S a numeratore mi viene Hfe meno Gm mi viene questa cosa qui mi conviene fare così metto in evidenza Gm così mi viene un termine noto e moltiplico per Rb'e come fate al denominatore quindi qui mi viene Hfe poi se ho messo in evidenza Gm qui mi viene 1 meno Gb'c su Gm per S quindi questa è l'espressione quindi analizzo questo è un polo reale e negativo ed è sp uguale a meno 1 su Rb'e per Cb'c più Cb'e per S e poi qua invece mi viene 1 0 reale però positivo e lo 0 è S Z quando è che il numeratore è uguale a 0 quando S è uguale a Gm diviso Cb'c vedete un polo reale negativo non 0 reale positivo e quel rapporto tra poli e 0 questa qui scritta così ci subì esattamente il guadagno di corrente di cortocircuito che dipende dalla frequenza che abbiamo polo non 0 e probabilmente ci sarà un valore di omega per cui quel rapporto ha modulo 1 e quel valore di omega per definizione la frequenza di taglio allora una cosa che dovreste notare è questo vedete quando S è uguale a 0 il rapporto C su B fa Hfe che è normale è giusto che se le capacità interne non contano il circuito si comporta come un giratore di corrente la corrente di uscita la corrente di collettore Hfe per la corrente di base in un ente di speciale questa è giusto una riprova per il fatto che le cose tornino poi l'altra cosa che ha senso fare è vedere il dove sono messi lo 0 e il polo la cosa che si vede bene che lo 0 è molto più grande del polo se provate a fare il rapporto tra SZ modulo e SP provate a fare il rapporto viene GM sopra diviso CB'C questo è lo 0 poi divido il polo e viene qui RB'E per CB'C più CB'E quindi questa che cosa è uguale GM per RB'E è Hfe e il resto è il rapporto di capacità che è per costruzione CB'C è per costruzione maggiore di 1 in realtà di solito la CB'E è più grande della CB'C quindi è anche maggiore di 2 a dire la verità va bene quindi il polo è molto più grande dello 0 e questo rapporto è maggiore di Hfe va bene non molto maggiore maggiore Hfe questo che cosa vuol dire vuol dire che se io vado a fare il diagramma di Bode di questa relazione il diagramma di Bode è così immaginate che faccia c sui b in db modulo in db e qui ci metta Omega allora io ho un un polo uno 0 e so che quando esso vale 0 questo vale Hfe quindi a frequenza nulla ho Hfe in db e poi ho prima il polo e poi più avanti ho lo 0 allora vedete quindi che cosa succede qui si scende con la pendenza di 20 db per decade e poi si va a piatti quindi chiaramente io posso trovare questa quantità questa quantità che corrisponde a 0 db cioè quando la perché si passa da una quantità maggiore di 0 a una quantità minore di 0 è decrescente l'andamento questa è una curva con meno 20 db per decade questa Omega qui è esattamente Omega t cioè è 2π per ft in questo punto la curva passa per 0 db cioè vale 1 bene a questo punto basta ricavare questa espressione quindi proviamo a scrivere i c sui b di j Omega t questo vale 1 e sostituiamo quindi abbiamo hfe che moltiplica 1 meno cb primo c per j Omega t diviso gm fratto 1 più rb primo e per cb primo c più cb primo e Omega t qui c'è il j ok allora ora quello che dovete notare è la cosa seguente se suppongo con un po' di approssimazione perché in realtà un po' di approssimazione c'è che Omega t sia molto più piccola di sp molto più grande di sp scusate e questo è vero perché qui si scende di 20m per decade da hfe e due decadi e qui sono insomma probabilmente a due decadi di distanza dal polo quindi questa cosa è vera ma anche molto più piccola di sz questo è un pochino meno vero perché tipicamente non c'è una decade ma insomma tanto per semplificare facciamo questa approssimazione allora cosa posso dire che allora possiamo semplificare e in che cosa consiste la semplificazione consiste nel dire vedete se Omega è molto maggiore di sp sp è l'inverso di questo termine qui no? quindi se Omega è molto maggiore di questa roba qua vuol dire che 1 è trascurabile qui al denominatore e invece se Omega t è molto minore di sz siccome sz è gm su cb'c se Omega è molto minore di sz vuol dire che questo termine è trascurabile rispetto a 1 quindi possiamo di fatto semplificare sia il numeratore sia il denominatore allora qui ho dimenticato una cosa che qui devo mettere il modulo c'era un modulo qui quando sono andato avanti non sono scordato quindi questo che cosa vuol dire l'espressione quando ho semplificato così mi diventa molto più semplice mi diventa 1 uguale ad Hfe per il numeratore fa 1 e il denominatore fa rb'e che moltiplica cb'e più cb'c per Omega t e quindi Omega t è uguale a porto di là viene Hfe diviso rb'e che di nuovo al solito è sempre gm diviso cb'c più cb'e e questa è l'espressione che cercavo ok è approssimata ma abbastanza buona come approssimazione alla fine insomma poi poi in realtà generale la bontà dell'approssimazione si accetta più o meno volentieri a seconda di quanto semplificata viene la formula molto semplice si prende anche se l'approssimazione è un po' meno bella formula semplice insomma già è una bella ricompensa allora che cosa dice in pratica dice guarda che la frequenza di taglio è uguale al gm del transistor diviso cb1c più cb1 e quindi diviso la somma delle due capacità perché è comoda perché gm lo conosciamo dal punto di riposo nel caso del transistore è ic su vt la stanza termica quindi è noto omega t tipicamente è una granenza che sappiamo e quindi di conseguenza conosciamo cb1cpcb1e abbiamo almeno la somma delle due capacità poi in un modo indipendente potremo trovare la la il valore del di una delle due per ricavare l'altra ok questa roba qui la omega t è una cosa che anch'essa dipende dalla corrente del collettore quindi omega t è uguale a 2πft lì bisogna stare attenti al fatto che si parli di hertz di radianti al secondo ma insomma non cambia la grandezza cambia solo l'unità di misura no di solito viene data nel datasheet e viene data in funzione della corrente perché dipende dalla corrente fatta così alla unità della corrente tipicamente sale alla unità della corrente e poi a un certo punto comincia a scalare questo è importante da sapere in generale perché se voglio come dire un circuito che funzioni bene in alta frequenza deve avere un omega t alta perché è un guadagno di corrente alto anche in alta frequenza e quindi per ottenere un comportamento migliore in alta frequenza mi sposto verso correnti più alte questo impone un compromesso di progettazione perché corrente di polarizzazione più alta vuol dire consumo più alto però vuol dire omega t più alta che di solito mi garantisce una banda più alta per cui diciamo le due cose effettivamente vanno gestite ecco la scelta della corrente si fa anche in base a quel fattore giusto per riassumere un po' di cose che ci siamo detti nel tempo e chiaramente più la corrente è bassa meno consumo perché quello mi dà una corrente che viene consumata anche quando non c'è segnale la corrente di riposo quindi questa potenza dissipata proporzionale al valore della corrente a parità del resto quindi questa è un'esigenza che mi farebbe spingere verso basse correnti per consumare meno contemporaneamente però sia il valore di HFE l'abbiamo già visto insieme sia il valore di omega t sono proporzionale alla corrente in realtà lo sono perché tutte e due dipendono dal GM che ovviamente aumenta quando aumenta la corrente e questa è un'altra esigenza che mi spinge ad impiegare correnti più alte c'è un altro fattore che non guardiamo adesso che è quello del rumore che di solito mi spinge anch'esso verso correnti più alte anche quando voglio avere un sistema meno rumoroso un fattore molto importante per gli amplificatori che non affrontiamo qui anche in quel caso lì mi conviene avere correnti più alte in generale tutte le prestazioni vanno a spingere verso correnti più alte tranne il consumo più o meno così andiamo va bene allora quindi per dire cosa questo che se noi vogliamo ricavare valori delle capacità interne del transistore dobbiamo andare a conoscere il punto di riposo perché ci serve il GM in funzione del punto di riposo e perché anche omega t dipende dal punto di riposo quindi prendiamo quelli valori e da quelli andiamo a calcolare la somma di cb'e più cb'c una volta che abbiamo la somma tipicamente viene data anche si trova nel nel in data c del transistore il cb'c cioè la capacità della giunzione che è polarizzata inversamente e quella è una cosa che si misura facilmente tra l'altro non cambia neanche tanto col insomma se il punto di riposo non si sposta tanto quella capacità non cambia anche tanto quindi a volte mi è dato il grafico in funzione della tensione tra base e collettore a volte mi è dato vengono dati un paio di valori per due valori diversi e non sono tanto diversi tra di loro che vuol dire che insomma si può prendere le due e andare avanti per cui di solito uno ricava la somma delle due capacità dall'FT la capacità della giunzione polarizzata inversamente la legge nel data sheet e per differenza trova l'altro così ci servono tutte e due e questo ci serve per ricavare poi i limiti superiori di banda dell'amplificatore ok per i FET il discorso è esattamente identico perché per i FET abbiamo in pratica come è fatto il circuito vedete si prende i FET il circuito è fatto più o meno nello stesso modo l'unica cosa che cambia è che non c'è l'RBI c'è un corto ma tanto non conta niente l'RBI in questo circuito che è visto in serie al generale di corrente è come se non ci fosse quindi il fatto che non ci sia nei FET non mi cambia niente nell'analisi l'altra cosa che non c'è nei FET è la RB'1E tende a infinito però vedete in pratica che cos'è che cambia se mettete l'RBI che tende a infinito in sostanza il termine 1 su RB'1E va a 0 e poi non cambia granché quindi questo l'analisi la posso fare più o meno nello stesso modo perché vedete qui quello che succede è che in pratica vedete e guardate queste espressioni immaginate di avere il GM se fosse il GM c'è il GM di FET l'RBI 1 tende ad essere molto grande risposta in basso il polo basta però insomma alla fine l'espressione di omega t viene uguale viene il GM diviso invece di CB'1C più CB'1E ci sono CGS più CGD che sono analoghi come significato sì può darsi un secondo scrivo scrivo questo poi dopo dove dice dove ah ovviamente sì 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 ho ricavato S quindi questo non c'è ok va bene allora facciamo una eh cosa il suo problema è fare un esercizio però prima mi assegno uno io da eh testare con da fare con simulatore circuitale da fare con Spice eh questo tipo cioè realizzare un amplificatore che eh facciamo l'esempio che abbiamo visto eh che ho detto un po' di volte oggi durante la lezione amplificatore audio ok con amplificazione centrobanda eh 60 no un po' di più 200 limite inferiore di banda 20 hertz limite superiore di banda 20 kilohertz come si fa per l'alta fedeltà ok supponendo di avere un carico da 100 ohm questa sarebbe l'RL e un generatore ingresso questo lo mettiamo comodo da 50 ohm ok ovviamente l'amplificazione che voglio è in presenza di questo carico in presenza di questo generatore ok eh diciamo utilizzare transistori di tipo 2N 22 22 e una tensione di alimentazione di 12 volt di 12 volt ok c'è un ragionamento iniziale su come va fatto questo com'è che va fatto dovete prima scegliere quanti stadi servono a circa poi dopo si tratta di scegliere il punto di riposo dei transistori eh scegliere la rete polarizzazione per ottenere il punto di riposo aggiustare l'amplificazione e sull'amplificazione potete giocare sulle resistenze che non sono eh vincolanti per il punto di riposo su quelle o su come le bypassate poi a centro banda così avete un grado di libertà in più e poi imponete i limiti di banda i limiti di banda inferiori come abbiamo visto ora poi chiaramente le capacità tutte uguali tanto non cambia molto quindi calcolando le resistenze viste e i limiti superiore di banda aggiungendo una capacità in più per limitare la banda giusto per darvi qualche dritta no chiaramente ci vuole un multistadio con uno stadio singolo non ce la fate e una possibilità è quella di fare ragionamento del genere la resistenza d'ingresso è piccola quindi non vi pone il problema il partitore in ingresso vi può porre il problema la resistenza d'uscita perché il carico a 50 ohm basta d'accordo quindi cosa vuol dire che è piccola la resistenza del carico e se non volete avere un partitore sulla resistenza del carico che vi abbatta molto l'amplificazione vi conviene avere un ultimo stadio con una resistenza di uscita piccola questo per esempio tra gli stadi che abbiamo visto è lo stadio al collettore comune ok immaginate che fa un multistadio l'ultimo stadio lo fate al collettore comune il collettore comune però cosa succede non vi dà guadagno di tensione vi dà un guadagno che è più piccolo di uno questo vuol dire che quel 200 lo dovete fare con gli stadi che stanno prima e allora qui l'unica diciamo la cosa probabile che vi servano altri due stadi prima al emettitore comune oppure forse anche un altro stadio solo il emettitore comune potrebbe bastare lì va fatto un bisogno di l'ho provato perché può dipendere molto dal tipo di rete di polarizzazione che mettete ok difficile dire a priori quindi questo viene un doppio stadio ce cc oppure due stadi ce e poi uno stadio cc i limiti di banda non sono un problema ecco in generale 20 kHz è una frequenza piccola come il limite superiore di banda per cui anche l'amplificatore anche uno stadio di ventidore comune che amplifica tanto con quel tipo di transistore vi riesce a dare 20 kHz di limite superiore di banda ok quindi allora pensateci un po' riguardiamo un pochino insieme tutto allora i tre stadi immaginate di farlo tre stadi o due stadi potete provare a farlo due stadi perché è più semplice che farlo tre stadi con il rischio che se però non funziona però devi fare tre stadi ok e non ve lo so dire se funziona o no perché veramente dipende da tanti dei parametri che scegliete quindi è difficile dirvi subito se vanno qua poi come scegliere il punto di riposo più o meno l'abbiamo visto in questo caso non potete sbagliare sul punto di riposo ok nel senso che insomma tutte le correnti vanno bene il guadagno è un po' più alto se la corrente è più alta quindi se mettete uno stadio solo portate un po' in alto la corrente perché così guadagno un po' più grande ok e quindi è più facile riuscire a beccare i 200 poi però non avete problemi poi dovete polarizzare in zona attiva dirette i transistori quindi scegliere una VCE dopo la IC può essere un mAh 2 mAh 5 mAh 10 mAh va tutto bene la VCE dovete scegliere non troppo piccola per esempio come abbiamo fatto l'altra volta circa la metà dell'alimentazione un po' di meno della metà va bene sempre e poi polarizzate i transistori una volta scelto il punto di riposo se fate gli stadi emettitore comune abbiamo visto insieme l'amplificazione dipende da quanta parte dell'RE bypassate quindi di fatto quanta parte bypassate dall'RE non vi tocca il punto di riposo perché per il punto di riposo l'RE è tutta presente quindi potete usare quello come grado di libertà per l'amplificazione è un fattore che agisce soltanto influenza soltanto il valore dell'amplificazione del centro banda ma non influenza il punto di riposo ok quindi una volta che avete fissato quello immaginate aver fatto l'amplificazione del centro banda e viene 200 ok a questo punto dovete andare a toccare e a verificare i limiti di banda per i limiti di banda inferiore l'abbiamo appena visto si tratta semplicemente potete usare la formula calcolare le resistenze viste e poi imporre 20 hertz e scegliere le capacità per comunità potete prendere tutto uguale e trovate il valore che vi serve ok su al limite superiore di banda invece che cosa fate potete dovete risolvere il circuito in alta frequenza potete andare a trovare dovete calcolare tutte le resistenze viste con cui ottenete il limite superiore di banda libero che non vi verrà 20 kg e si vi verrà più grande e quindi dovete fare come vi dicevo poco fa cioè aggiungere una capacità in più per aggiustare il limite superiore di banda ok quindi decidete dove mettere la capacità in più calcolate la resistenza vista da quella capacità e poi diciamo scegliete il valore per ottenere il limite superiore di banda che vi richiesto ed è finito ok la sequenza è abbastanza come dire standard chiaramente se in ognuno di questi passi non riuscite perché c'è un vincolo che non riuscite superiore per esempio anche bypassando tutte le RE non riuscite ad ottenere l'amplificazione del centro banda richiesta a quel punto c'è poco da fare ci vuole uno stadio in più probabilmente di quello di quello che avete messo oppure avete perso attenuazione da qualche parte in modo eccessivo bisogna un po' vedere ok difficile però si tratta se a un certo punto uno dei risultati non ottenibili si tratta di tornare indietro di discutere le scelte fatte per cercare di capire dov'è che si è perso in la possibilità di rispettare la specifica no e così via d'accordo mio consiglio è farlo prima a mano con le approssimazioni che facciamo di solito poi una volta che a mano l'avete risolto avete il dimensionamento completo lo mettete dentro il calcolatore dentro Spice e fate la simulazione e vedete se effettivamente funziona nello stesso modo di solito non funziona nello stesso modo perché avete fatto le approssimazioni nel calcolo a mano che in Spice non vengono fatte perché avete preso dei modelli leggermente diversi da quelli che vengono usati dentro Spice quindi uno a quel punto però che cosa succede le specifiche non tornano più esattamente ma in modo approssimato tornano e quindi a quel punto cos'è che uno fa dice supponiamo che io abbia imposto l'amplificazione del centro vado nel 200 abbia fatto tutti i calcoli per ottenere 200 vado dentro Spice metto tutto dentro 1.240 allora che cosa devo fare devo abbassare l'amplificazione no? come si fa abbassare l'amplificazione lo sappiamo l'amplificazione per esempio se ho fatto degli stadi emettitore comune devo bypassare un po' di meno la resistenza sull'emettitore allora toccate direttamente sul circuito la resistenza sull'emettitore l'alzate fin tanto che l'amplificazione avvia in 200 a quel punto probabilmente se avete cambiato la resistenza sull'emettitore vi sono cambiati i limiti superiore di banda a quel punto andate a ritoccare il valore della capacità in più che avete aggiunto per rimettere a posto i limiti superiore di banda ok? quello che voglio sottolineare è il fatto che i calcoli approssimati che abbiamo fatto vi portano a una progettazione di massima poi una volta che però avete fatto la progettazione di massima siete già un punto buono sul calcolatore per aggiustare i parametri e fissarli dovete usare a quel punto l'espressione approssimata che conoscete semplicemente per capire le dipendenze funzionali se aumento questo parametro cosa succede agli altri parametri in modo che possiate andare sul calcolatore con spice e iniziare a vedere che cosa toccare sul circuito ok? quindi le spessioni approssimate servono in tutte e due le fasi sia per diciamo fare fuochino arrivare vicino al risultato finale sia poi per fare la cordatura finale che si fa direttamente con spice quindi intanto noi ci dobbiamo vedere ancora diverse tante volte se cominciate a farlo chiaramente poi se avete qualche problema siamo qua sono qua e quindi si può parlare facilmente meno semplice di quell'altro però effettivamente che è più lungo da fare però effettivamente è utile perché mette insieme un po' tutte le cose che abbiamo visto soltanto dal punto di vista di dover fare il circuito di dover progettare il circuito ok poi insomma se andate avanti trovate qualche problema magari se ne parla anche tutti insieme se è una cosa un po' generalizzata si può fare senza problemi ok no e quindi vabbè quindi ho fatto un'illustrazione abbastanza dettagliata di questo che aveva detto inizio di esame basato su un amplificatore e ce lo facciamo tutto piano piano dall'inizio alla fine ok e questa è una cosa che vi serve perché così poi potete esercitarvi ne faremo qualcuno non uno soltanto tutto insieme il primo lo facciamo lento lento proprio in modo da riguardarlo tutto e che possiate anche notare tutto quello che non vi ricordate e dovete andare a riguardare ok così lo fate poi chiaramente dovete esercitarvi un po' sicuramente anche da soli cioè vanno fatti e e tede presente che quello che facciamo è esattamente la stessa cosa che va fatto per risolvere questo esercizio soltanto che in questo caso lo facciamo sapendo il valore dei componenti voi lo dovete fare scegliendo poi il valore dei componenti che è proprio l'esercizio in buona parte è simile d'accordo ci fermiamo qua l'esercizio grazie a tutti grazie a tutti